ciao a tutti amici di animazione compiani e benvenuti in questo nuovo video vi mostrerò come fare un ciuccio con i palloncini potrebbe essere un ottima idea addobbo per un battesimo oppure anche un bellissimo regalo per una nascita ok iniziamo con 4 palloncini rotondi di questa dimensione li leghiamo a due a due questa è la prima coppia e facciamo anche la seconda coppia adesso uniamo insieme queste due coppie ok poi prendiamo un palloncino modellabile bianco lasciamo sgonfio di quattro dita e uniamo l'inizio con la fine abbiamo ottenuto un cerchio che andiamo ad attaccare insieme ai quattro palloncini ne facciamo passare all'interno due e poi portiamo il centro del palloncino bianco al centro dei quattro palloncini azzurri ok per il momento possiamo lasciare così questa prima parte poi ci serviranno due palloncini uno trasparente e uno bianco dobbiamo inserire mentre sono ancora sgonfi quello bianco dentro a quello trasparente tenete fuori l'inizio del palloncino bianco perché ci servirà per gonfiarlo non gonfiate totalmente il palloncino bianco ma fate solo una pallina poi fate il nodo nell'inizio del palloncino bianco ok ora inserite l'inizio della pompetta all'interno del palloncino trasparente in questo spazio questo deve essere il risultato ora fate il nodo a tutti e due palloncini insieme e andate ad attaccare questa parte hai quattro palloncini azzurri ecco qua il nostro ciuccio è finito volendo potete ovviamente farlo anche nella versione rosa spero che questo tutorial vi sia utile se vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e non dimenticate di iscrivervi al mio canale youtube ciao a tutti al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti